Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Tragico nutto in Italia, la drammatica notizia è arrivata a pochi minuti fa in redazione. E' morta la figlia giovanissima del famosa musicista italiano, tutti sotto shock. Purtroppo, in poco più di un anno un brutto male se l'è portata via. Le ultime ore la città ha accolto con sgomento la notizia della prematura scomparsa di Viola Barghetti, la diciottenne figlia del musicista Adriano Barghetti. La giovane studentessa del liceo artistico Stagio Stagi di Pietrasanta ha perso la sua coraggiosa battaglia contro una malattia che l'ha colpita inesorabilmente in nemmeno un anno. La notizia della sua morte ha rapidamente fatto il giro della città, lasciando cuori pesanti di disperazione. Viola non era solo la figlia di un apprezzato musicista, e di mamma Simona Lippi, ma una promettente studentessa immersa nei suoi studi artistici al liceo di Pietrasanta. Il dolore per la sua perdita è profondo, e la comunità via regina si unisce nel cordoglio per una vita spezzata troppo presto.